Per prevenire e contrastare la criminalità sul territorio, dal 2017 per i comuni lo Stato ha previsto un aiuto in più. Sono i bandi videosorveglianza del Ministero dell'Interno, ideati nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, fondi statali per finanziare nuovi e adeguati sistemi di telecamere. La richiesta da parte dei sindaci è altissima, tanto che dai 17 milioni di euro stanziati a livello nazionale per il bando del 2020 si è passati ai 27 milioni previsti dall'ultimo bando, scaduto il 10 dicembre scorso. Entro tale data, le amministrazioni interessate dovevano inviare alla Prefettura di competenza tutta la documentazione necessaria. In Molise lo hanno fatto 67 comuni, 35 per la provincia di Campobasso e 32 per quella di Isernia. Sarà ora un'apposita commissione ministeriale a valutare i singoli progetti da ammettere a finanziamento e a stilare la graduatoria finale. Valgono solo progetti per nuovi impianti, non sovrapponibili a sistemi di telecamere realizzati in precedenza attraverso finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali concessi o erogati negli ultimi 5 anni. A far salire nel punteggio è soprattutto l'incidenza della criminalità, ovvero il numero dei reati commessi in rapporto a quello degli abitanti, un criterio che favorisce i piccoli comuni. Delle 287 amministrazioni che hanno vinto il precedente bando, quelle molisane sono 5, tutti comuni in provincia di Isernia e tutti giudicati a elevatissima incidenza di criminalità. Sono Inordine, Macchia di Isernia, Cantalupo nel Sagno, Montenero Valcocchiara, Sesto Campano e Carpinone.